Questo rapporto fotografa una regione tutto sommato virtuosa nella raccolta di questi particolari rifiuti. Sì, assolutamente virtuosa perché appunto si tratta chiaramente di rifiuti particolari, quindi derivanti da apparecchiature elettriche e elettroniche e si registra un incremento del 14% rispetto ai dati del 2009 e quindi circa 27.000 tonnellate, 4.000 in più rispetto al 2009. I dati del primo quadrimestre del 2011 sono ancora più confortanti con un incremento del 28% e pensiamo che sia la rappresentazione di due elementi importanti. Da un lato la consapevolezza dei cittadini e la sensibilità sui temi ambientali e dall'altro anche l'efficienza di un sistema che è quello della raccolta della regione che in effetti consente di intercettare questa disponibilità dei cittadini e quindi di ottenere dal punto di vista proprio sia del recupero che del riciclo dei buoni risultati. Su cosa ancora occorre puntare l'attenzione per migliorare? Sì, certamente margini di miglioramento ci sono sempre, esistono sempre noi pensiamo soprattutto ai piccoli elettrodomestici e alle sorgenti luminose vorremmo cercare di coinvolgere il settore della distribuzione oltre che chiaramente i gestori perché questi sono due campi in cui abbiamo registrato un conferimento minore e quindi chiaramente sono due settori su cui lavorare per raggiungere poi un risultato complessivo e omogeneo rispetto a questa particolare qualità di rifiuto.